Dalla Green Room del Fuoriluogo Festival abbiamo ospiti Fabrizio Camarata, Paolo Fuschi. Benvenuti ragazzi per la presentazione in anteprima per il Fuoriluogo Festival del loro nuovo disco a quattro romani che hanno scritto da poco, registrato a Manchester. Ci volete parlare un secondo di questo progetto? Sì, è un progetto che è nato intanto dal fatto che siamo amici da tantissimo tempo, siamo entrambi musicisti, però abbiamo seguito strade diverse perché io faccio le mie tournée in giro, lui, Paolo, si è trasferito a Manchester in Inghilterra tanti tanti anni fa, però abbiamo un sacco di cose in comune che ce lo siamo sempre detto, diciamo da più di dieci anni, prima o poi dobbiamo metterla in, dobbiamo cristallizzare questa nostra, le cose che ci accomunano musicalmente in qualcosa. Per caso è successo, è successo adesso, con una spontaneità veramente che mi ha fatto, ci ha fatto diventare veramente dei ragazzini di nuovo. E quindi sì, è nato un disco, ieri è uscito il primo singolo di questo disco che si chiama My Salvation, è questo pezzo che abbiamo appena suonato. In estate ne uscirà un altro, a ottobre ne uscirà un altro ancora e a novembre ci sarà il disco intero, finalmente, che si chiama Skint and Golden, che è stato registrato fra Manchester e Palermo, per la verità. Quindi è proprio, in qualche modo, è un connubio fra questi due mondi e comunque ci appartengono. Perfetto, grazie ragazzi.